E adesso il momento più atteso di Telesveva Sport, quello della Superrafica di Super Mario. Allora, cominciamo dalla Cerignola e dal campionato di Serie D, dopo gli annunci dei ritorni di Emanuele Esposito e D'Alessio Amabile, dell'ingaggio di Savino Leonetti, il direttore sportivo Elio Ditoro, prepara nuovi innesti. Allora, il prossimo sarà Enrico Silletti, difensore centrale ex Gravina, vicinissimo anche l'accordo con Tiziano Prinari, centrocampista ex Fasano. Piace sempre Lorenzo Liurni, attaccante nell'ultima stagione in forza nel Gironi H di Serie D alla Nocerina, ma in questo caso c'è da battere la forte, fortissima concorrenza del Taranto. Capitolo, Molfetta, nuovo difensore per la matricola bianco-rossa, perché il direttore sportivo Gianluca Frascati ha raggiunto l'accordo con Luigi Di Nieli, centrale arretrato ex Fidelisandria e Sansevero, possibile sempre a Molfetta la conferma di Alessandro Scialpi a centrocampo. Capitolo, Team Altamura con tantissime novità. Allora, confermato in attacco Antonio Croce, molto vicina anche la conferma di Mirko Guadaluppi a centrocampo. Accordi poi raggiunti con due nuovi arrivi di esperienza. Il primo, Nicola Lanzola, difensore ex Taranto e Fidelisandria. Il secondo, Alessio Palmisano, esterno offensivo che ha giocato 22 volte nell'ultima Serie D con il Casarano. Casarano che si garantisce un colpo importante perché è fatta per il trequartista Federico Cerone, ex Savoia. Il Gravina invece lavora sulla conferma del centrocampista Cristian Correnti, juniors classe 2000, sondaggio a centrocampo con Alessio Lonigro, ex Savona. Il Fasano invece ha piazzato la seconda novità in entrata dopo il difensore argentino Facundo Urchisa perché è stato preso. Davide Difino, centrocampista classe 95, lo vedete qui in foto, proveniente dalla Deghi Calcio. Scendiamo in eccellenza con diverse squadre molto attive. Partiamo dalla Barletta perché è ad un passo l'accordo con l'attaccante Vito Morra che ha vinto l'eccellenza con il Molfetta nell'ultima stagione. È stato già allenato da Francesco Farina Cerignola e in bianco-rosso in pratica tornerà a comporre il tridente offensivo di quel Cerignola con Nicola Sderito e Nicola Loiodice. Sondaggio effettuato per Cristiano Ancora del Brindisi, trattativa in via di definizione per la conferma di Marco Milella al Barletta. Ci spostiamo a Trani con la United Sly che dopo i tanti colpi piazzati a livello senior ora si concentra sui giovani. Ieri c'è stata la conferma del terzino 2001 Andrea Mancino. Questa mattina è arrivato l'annuncio dell'ingaggio di un volto nuovo. Il primo tra l'altro che riguarda la porta si tratta dell'estremo difensore classe 2001 Simone Equestre nella passata stagione a Vieste nel campionato di eccellenza. Capitolo corato perché prosegue il pressing della società nero-verde nei confronti del difensore Ernesto Dispoto, ex Unione Calcio Biceglie. Colpo del Martina a centrocampo, accordo raggiunto con Pietro Camporeale. Arriveranno la prossima settimana le prime ufficialità per la società della Valle d'Itria. Comincia a prendere forma intanto la rosa del Vieste che sarà allenata ancora da Francesco Bonetti. La finalista di Coppa Italia di Lettanti parte da un poker di conferme. Francesco Sollitto, Filippo Caruso, Francesco Innangelo, Juniores, 2001 Agostino, Vulcano. Il Gallipoli invece ha ufficializzato Antonio Mangione, centrocampista del 98 ex Monopoli Ennardò. Giocherà con i Salentini nel prossimo campionato di eccellenza. Per quanto riguarda il Massafra, invece trattativa addirittura d'arrivo per l'approdo proprio alla formazione tarantina di Joao Pedro Pellisson, centrale difensivo brasiliano classe 94, ha militato con lo Sporting Vallone in eccellenza siciliana. Il Mole invece conferma in organico Giuseppe Triozzi, terzino classe 96, che dunque giocherà con i Baresi. Se lo vedete in foto, nel frattempo è arrivata l'ufficialità della conferma di Marco Milella con il Barletta. Milella dunque continuerà ad indossare la maglia bianco-rossa.